amici buon giovedì sera a tutti sono appena tornata di lavoro preparo la cena questa sera gnocchi giovedì gnocchi non li ho fatti a pranzo perché mi erano avanzate le serie di ieri con le melanzane allora gnocchi col sugo fresco tutto bello pieno di basilico fresco sto schizzando dappertutto questo vecchino pronto gnocchi sono venuti a galla e lì scoliamo gli occhi di patata ma pronto che bontà buona cena a tutti amici gnocchi col sugo pronto basilico fresco ma traspolverata di grana a cascata cascata ne 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 e buon appetito questa è la mia cena amici scotta scottano buona cena a tutti